ciao a tutti amici della riete benvenuti nuovi e bentornati gli iscritti io sono ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi chakra creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche per quello che riguarda l'amore per la prima metà di gennaio a metà mese poi pubblicherò la seconda parte delle previsioni come sempre vi ricordo che sono letture generiche sono fatte per un collettivo quindi prendete solo i messaggi che vi risuono che lasciate andare il resto all'universo se volete avere un messaggio più completo vi consiglio di andare ad ascoltare anche il vostro ascendente o il vostro segno lunare bene mostrami ariete tendenze grazie abbiamo il giudizio cari amici della riete si prospetta quello che è un arrivo di una persona o anche una notizia una chiamata magari potrebbe essere di qualcuno che non si vede da tempo o si hanno notizie di un qualche tipo di progetto piuttosto che di situazione di cui non si sa molto da tempo il giudizio parla anche di quello che un risveglio spirituale per molti casi parla di quello che l'ha chiamato ok quindi può essere letteralmente o una chiamata diciamo via telefono una notizia via telefono oppure una chiamata di tipo divino se ci fate caso la carta è rappresentata con un angelo ok bene andiamo a vedere i tarocchi di osho che cosa vi dicono per questo periodo ok abbiamo il confronto la maturità innocenza e lottare sento che per qualcuno questo tipo di risveglio spirituale questo tipo di lampadina diciamo potrebbe essere riferito a quello che è un certo tipo di atteggiamento all'interno di una situazione o di una relazione è come se capiste che cosa dovete fare come vi dovete comportare per riuscire a portare avanti questo tipo di situazione abbiamo il confronto e mi parla di quello che potrebbe essere il confronto tra due persone o tra due situazioni magari potrebbero essere due case per esempio ok però per certi versi è un po come se le carte dicessero che e ora è arrivato il momento le cose sono mature per riuscire o la relazione potrebbe essere e matura per riuscire a fare quello che è il salto l'innocenza è l'arcano maggiore del sole quindi parla di quello che è diciamo un ritrovare l'essenza quello che è la fiducia e l'ingenuità e anche un po la purezza che sia quando quando si è bimbi e l'innocenza parla proprio di questo di riuscire comunque a guardare al mondo con la stessa innocenza che nei bambini ma con la saggezza che avete acquisito negli anni questo tipo di diciamo binomio vi porterà comunque a quello che è un affrontare a spada tratta diciamo quelli che sono i vostri pensieri piuttosto che le vostre emozioni bene andiamo a vedere i tarocchi che cosa dicono per gli amici della riete si è come se ci fosse una sorta di devo prendere una strada o un'altra che tipo di percorso devo fare e io sento che in qualche modo lo lo troverete troverete questa strada cercando di unire quello che è la saggezza insieme a quello che è l'ingenuità insieme a quello che è la purezza più che l'ingenuità ok andiamo a vedere però che cosa dicono per i nostri amici della riete per l'amore per i primi 15 giorni 15 20 giorni ricordate sempre che il tempo è fluido abbiamo la regina di spade un fante di spade un 2 di pentacoli quindi se il discorso che ho anticipato qui diciamo il cercare di capire come muoversi per riuscire insomma a vincere quello che questa lotta questa battaglia questa presa di posizione insomma è cercando di fare una sorta di ordine logico si tratta qui di anche sento per qualcuno trovare una strategia perché comunque abbiamo fante di spade sento che per molti non ci si sente ancora in grado di affrontare questo tipo di discorso questo tipo di chiamata potrebbe essere c'è ancora quello che è una sorta di disequilibrio con quello che mi dice il 2 di pentacoli abbiamo poi anche un asso di spade e mi parla di quello che c'è da tagliare di quello che c'è da pulire un 10 di spade e qui sento che si chiude un ciclo perché un 10 come dico sempre i 10 sono la fine di un ciclo l'inizio di un nuovo ciclo avete un asso di spade qui è un asso di coppe qui quindi o sì o sì c'è un qualche cosa insomma che che va a compimento che si deve chiudere per qualcuno si può trattare di quello che è un certo tipo di sofferenza ok abbiamo anche un bellissimo studio coppe però che mi parla di quello che è un nuovo inizio una rinascita mi parla di quello che è anche un incontro un innamoramento e finiamo con la stella al contrario stella al contrario mi dice che qualcuno qui ha un po perso le speranze di lottare andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo la regina di spade per piacere grazie per i nostri amici della riete perché qui sento che allora la regina di spade potrebbe essere un energia intorno a voi oppure un'energia diciamo la carta esprime quello che un energia razionale fredda magari all'interno di una situazione di una relazione appunto c'è questo tipo di energia un po troppo calcolatrice un po troppo stratega se vogliamo fredda comunque io sento allora la prima carta che spiega la regina di spade 10 di denari e un 9 di spade avete un sacco di spade tanti pensieri tanti tanta mente di nuovo un altro 10 quindi anche qui si apre un ciclo e se ne o meglio si chiude un ciclo e si apre un ciclo nuovo per qualcuno queste tre carte insieme mi fanno pensare al fatto che ci si lascia indietro proprio l'energia di questa regina di spade ci si lascia indietro quello che la sofferenza che magari questa persona ha provocato sento che comunque fa parte di un potrebbe essere un gruppo familiare per qualcuno perché il 10 di denari normalmente fa riferimento quello che la famiglia oppure appunto la relazione di coppia comunque sento che c'è un qualche tipo di energia un po così costruita un po troppo quadrata ecco se vogliamo che si lascia indietro nonostante questo il fante di spade potrebbe essere comunque la vostra energia oppure l'energia di una persona che potrebbe entrare nella vostra vita allora il fante di spade spiegato da un 8 di bastoni e quindi qui si può parlare di qualche tipo di comunicazione di qualche tipo di notizia di lettere alla chiamata di cui parlava anche in giudizio poi abbiamo un 5 di spade e un 2 di coppia sento che qui qualcuno probabilmente è combattuto se questo fante di spade per esempio fosse una persona che avete appena conosciuto o che siete lì per conoscere insomma c'è un qualche tipo di confusione a livello mentale per quello che riguarda questo tipo di unione questo tipo di incontro se vogliamo ok è come se si pensassero e dicessero tante cose che alla fine poi si crea confusione il lotto di bastoni mi parla proprio di quelle che sono le notizie appunto oppure può essere una notizia una chiamata una comunicazione che riguarda comunque un unione un incontro che crea una sorta di confusione porta porta un po così di disequilibrio se vogliamo porta un po di alti e bassi anche emozionali ok il 2 di pentacoli e spiegato da un 5 di pentacoli e dal 6 di bastoni sì perché da un lato probabilmente si voleva questo tipo di chiamata questo tipo di notizia però dall'altro si ha paura di rimanere di nuovo delusi quindi sento che con queste due carte insieme un po come se fosse una falsa vittoria un falso successo diciamo perché comunque è vero che sei di bastoni è la carta del successo della vittoria del riconoscimento quindi a sì sei tornato lo sapevo però alla fine sia un attimo nel panico dice no aspettate un attimo però e se poi c'è resto di nuovo male e se poi e se poi e se questa è la paura poiché parla ok andiamo avanti a vedere il lasso di spade per piacere grazie ancora una ok lasso di spade spiegato dal karma dalla carta del karma dal 6 scusate posterne titolo e dal 6 di pentacoli e dal 4 di coppe questa fatidica chiamata comunicazione questa notizia che deve essere data io sento per certi versi non la si vuole dare ma io sento che un passaggio obbligato c'è quella che in questo mazzo viene chiamata la carta del karma quindi è un qualche tipo tipo di ciclo karmico di debito o credito karmico che dovete in qualche modo affrontare ok è inutile che facciate finta di non vedere questa cosa perché insomma bisogna chiudere il ciclo come dice il 10 di spade ok bisogna insomma chiarire fare questo tipo di comunicazione dare la possibilità di creare questo tipo di ordine mentale ok andiamo a vedere il 10 di spade per piacere grazie abbiamo un 9 di bastoni al contrario wow e 6 di coppe quindi sì questo ciclo si si deve chiudere si va a insomma quello che si sento è giustamente anche qui vi è uscito il karma qui avete 6 di coppe sento che potrebbe proprio essere una relazione di tipo karmico che sia una relazione di tipo affettivo familiare o una relazione di tipo romantico la persona in questione che magari a questa energia un po' fredda un po' calcolatrice sento che è ora di lasciarle indietro semplicemente smettete di difendervi smettete di dare energie per difendervi da questa persona semplicemente indifferenza non fateci caso non è più il caso di mettere tutte quelle energie appunto per difendervi ok sento che comunque è un qualcosa che risale a molto tempo fa un tipo di energia del passato perché vi ricordo che se di coppe parla di quello che l'adolescenza o anche l'infanzia molto volto ok quindi o sì o sì in un certo senso lasciatevi fluire lasciate andare quello che è il dolore è una fase che comunque con questo tipo di chiarezza mentale questa sorta di dolore questa sorta di tradimento viene piano piano metabolizzato io sento e ma vedere l'asso di coppia per piacere grazie ok ok allora un set di bastoni vediamo che altro anche qui c'è voglia di cominciare qualcosa c'è la voglia di di iniziare con questo asso di coppe magari proprio fa riferimento a questo 2 di coppa questo incontro ok quindi sento che sia in un attimino infatti le carte vi dicono smettete di difendervi non mettete più energie in quello che è l'esterno il difendervi all'esterno cercate piuttosto di caricare le pile di rivolgere questa energia all'interno date amore a voi stessi insomma vediamo perché la stella al contrario la stella al contrario parla di un dieci di bastoni fante di coppe 9 di coppe e re di spade allora vi faccio presente che avete re di spade qui e la regina di spade qui quindi si potrebbe trattare di quello che è una coppia predestinata di nuovo abbiamo un 10 quindi anche qui mi parla della chiusura di un ciclo e dell'inizio di un ciclo nuovo scusate aver causato la carta e e c'è questo fante di coppe per qualcuno il fante di coppe potrebbe fare riferimento eventualmente a dei figli ok sento che comunque qui c'è bisogno davvero con questa stella al contrario si sono un pochettino perse le speranze per quello che riguarda un certo tipo di situazione o di relazione io sento che qui si ha la voglia di lasciarsi indietro certi pesi potrebbe essere anche certi pesi inerenti comunque al figlio o a un qualche tipo di sento capriccio ok quindi per chi non ha figli magari c'è questa energia un po capricciosa comunque c'è bisogno di fare chiarezza mentale è inutile affogare i dispiaceri nei vizi bisogna far chiarezza mentale bisogna capire quali sono le vostre responsabilità e quali invece sono le responsabilità degli altri sento che comunque con questa stella come dicevo prima si è un po perso le speranze per quello che riguarda una determinata situazione o una persona quello che sento diciamo più forte è questo bisogno di il confronto e tra prima e dopo quello che mi viene non è tanto il confronto tra due cose o due persone ma è un confronto tra prima e dopo e qui sì sì come posso dirvi si vede ecco quello che è l'allontanarsi da questa persona per paura di di certe delusioni per c'è una sorta di conflitto interiore sento che c'è un qualche tipo di chiarezza mentale o comunicazione che viene fatta magari come dicevamo poteva essere potrebbe essere la notizia da lontano abbiamo anche un 6 di coppe che parla di notizie da lontano sento comunque che qui avete bisogno in questa parte della lettura di rivolgere l'amore all'interno di darvi amore perché sento che state mettendo troppa energia quello che il contrastare diciamo le forze esterne invece di fare attenzione magari a quello che volete voi bene andiamo a vedere un messaggio delle fatine andiamo a vedere che altro non da dirvi le fatine io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere un like al video se la lettura fino a cui vi è piaciuta potete iscrivervi se non l'avete ancora fatto e potete condividere andiamo a vedere per i nostri amici della riete l'ultimo grazie healing guarigione e mi viene un po a gioco con questa carta con 4 di spade e tempo per voi di dare e ricevere guarigione ognuno ha una naturale abilità per guarire gli altri anche tu in effetti io sono maestra di reiki sono master reiki e vi posso dire per certo che è così tutti tutti ma proprio tutti hanno la possibilità di fare reiki di dare reiki che questa energia vitale universale il punto che crescendo ci si dimentica come si fa con l'adolescenza quindi poi in età adulta c'è bisogno di quelle che si chiamano attivazioni per diciamo pulire il viadotto dell'energia ecco però tutti assolutissimamente tutti si è connessi con l'energia vitale universale bene cari amici della rete io vi lascio con questa bellissima carta spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile vi ringrazio tantissimo per il tempo trascorso qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao